ciao a tutti e benvenuti sul mio canale da maris channel oggi con voi farò la prima parte del mio back to school visto che si sta avvicinando la scuola come vedete ho questo astuccio azzurro pastello con scritto eastpac il costo è stato 17 euro e adesso vi faccio vedere quello che c'è dentro apro l'astuccio e qui ho una matita hb e ho tre penne della pilot una blu una rossa e una nera con le punta fine poi ho una tasca con un goniometro da 180 cm non ho il righello perché mi sono dimenticata di prenderlo in negozio poi ho questa penna della bic con tante penne una rosa una viola una verde e una azzurra e poi qua è lilla poi ho una colla della tinta umita rosa poi ho questo tempera matite grigio molto semplice della fabrel castle e poi ho una gomma della standler che non ho ancora aperto e poi ho questi evidenziatori della swing cool stabilo swing cool una rosa un'arancione uno verde e uno giallo che sono i miei colori preferiti poi sotto a questi evidenziatori ho questa gomma che nella parte blu cancella la penna quando scrivi e poi questa rossa come una gomma da cancellare poi ho questo evidenziatore della stabila boss grigio che non l'ho comprato per il back to school ma l'avevo comprato così poi ho queste forbici rosa che avevo già comprato per l'anno scorso ma non le trovo più quindi le ho ricomprate queste forbici rosa a punta arrotondata poi ho un'altra penna pilot punta fine sempre nera di riserva e adesso metto tutto a posto questo video si conclude qua spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al mio canale ciao e alla prossima ciao 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 ciao